e bella a tutti ragazzi sempre io leo tv se no su questo canale dopo il video che avete visto ieri in precedenza voglio fare uno scherzo epico ad un mio amico per un prank challenge su whatsapp andiamo sul mio carissimo cellulare allora apriamo whatsapp in questo caso è tmx ho parlato un po giusto per fare la parte del messo da programma bla 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 andruno youtuber e ci diciamo secondo me la nostra amicizia è una lupa più bella non chiedermi perché non vuole di volare no allora io aspettiamo che risponde ecco la ragazza rispondendo ecco la ragazzi sta rispondendo attenzione ma che cazzo un attimo lo so sembra strano ma devo parlarti se viene a scoprirlo mi ammazza ma tu che sei male devo guardarti lo sta scrivendo eh attenzione dimmi è un periodo è proprio tua madre è un periodo che ci siamo allontanati e tu non l'avevi detto perché ragazzi sicuramente sta sospettando ma di brutto proprio ma vediamo un po' perché ci siamo allontanati perché ci sono dei puntini ragazzi sta piangendo ragazzi cosa ti devo dire ragazzi cosa ti devo dire Scusa ma non sto facendo Ragazzi io Allora Forse Lontanarci Lontanarci Perché Mi stai Tradendo E non Me l'aspettavo Da te Oddio ragazzi sto piegendo Non si faccio più Ragazzi secondo me sta piuttosto Raga Un messaggio vocale Sì Io non me l'aspettavo Ma comunque Mi credito Non te la per forza E sto a pazziarmi Raga Penso che farò una serie Questa Su whatsapp Perché è troppo Troppo Non ho letto L'ho Io raga L'ha visualizzato Tu hai buon senso di Oddio ragazzi sto ponendo No no Adesso No Inventa Non inventarti Scusa Perché Stai volando Così Stai volando Stai volando Troppo Eccolo Eccolo È visualizzato Esatto Allora Mabbà Mi dispiace Mi dispiace Ma sono costretto Sto a fare Tutti ragazzi Non le facevo mai Non le ho mai fatte Però non so perché Ma le voglio fare Mi spai Andiamo a prendere Certi si viva Vai calma Ma io non Ma ragazzi Non voglio ridere Zitto Ragazzi Sto squillando Oh Vittor Ma comunque Non me l'ha aspettato Ma cosa Non lo so Non ho capito Più o meno Un'oretta fa Di quello che stai facendo Che sapore c'è Eh non lo so Tu me lo devi dire Quindi io un'oretta fa Stavo mangiando Eh io stavo vedendo Un attimo il tuo video E ho scoperto una cosa Che non dovevi fare Quale è il video? Sono anche questo su YouTube L'ultimo Eh E che te ne andiamo male quel video No Vittor Però vabbè andiamo a Forse è meglio che ci allontriamo Vittor Sto in coppa YouTube Ciao ragazzi Ho detto il mezzo Scherzo Epico Ho finito male Ciao Vittor Salute ai tuoi fan Eh salute C'è urlato A presto Che stavo io Ragazzi Lasciate un like Per il mezzo E foro una serie Alla prossima Ciao Vittor Anche questo Vittor Ragazzi Vi ho detto Questo scherzo È finito qua Se non ci lasciate un like Commentate Iscrivetevi al canale Alla prossima E commentate Con quale persona Devo fare questi scherzi Bella ragazzi Ciao Ciao